Una buona partita, un risultato che ci sta un po' stretto, però che ci sta globalmente. È una partita non difficile, giocata dopo tanto tempo di pomeriggio col sole, quindi c'era anche molto caldo al quale non eravamo più abituati, però nonostante questo contro un Verona che comunque arriva da una sconfitta dove c'erano molto lamentati e sicuramente avevano anche molta adrenalina e contro un ottimo Verona siamo riusciti a fare bene. Non siamo riusciti a essere lucidi in zona gol, soprattutto nel primo tempo e nel finale di partita. È un peccato perché abbiamo creato molti presupposti per segnare e non avevamo la solita precisione nell'ultimo passaggio, soprattutto per creare azioni da gol. Ieri parlando con gli organi del club ha detto che queste partite servono anche a preparare la Champions. Questo è il caso? Servono a preparare la Champions perché il Verona, come sarà poi il Bologna martedì, il Milan sabato e venerdì, sono squadre che stanno bene, non hanno in questo momento particolari obiettivi, quindi giocano molto liberamente e con una buona condizione, quindi ti costringono a giocare con intensità, con attenzione, con concentrazione e questo indubbiamente per noi è molto utile in funzione di Champions. Un'ultima cosa sulla Champions. Durante la partita a Domenech, che è un po' l'olivieri francese, ha detto che non pensa che il PSG possa soffrire più tanto all'Atalanta vista la difesa dell'Atalanta, come valuta questa affermazione e come valuta la difesa dei suoi ragazzi? Penso che abbia ragione, quindi abbia valutato, ci abbia visto, abbia fatto le sue valutazioni, non posso commentare le sue valutazioni, speriamo di smentirle in campo però va bene. Ma oggi si è arrabbiato per il gol preso, visto che vi siete addormentati? No, su palle inattiva siamo rimasti un gol sicuramente evitabile, però sulle palle inattive che erano poi le situazioni dove il Verona poteva essere pericoloso, ha avuto qualcosa nel secondo tempo ma globalmente è stato pericoloso anche il primo tempo su due calci piazzati e diversamente facevano sicuramente più fatica e lì invece sono situazioni in vantaggio che se le reggi, cioè prendi il gol su palle inattiva mi dà sempre molto fastidio. forse più che su azione. Grazie. Salve. Mi chiedevo se sei rimasto stupito dai due minuti di recupero, visto che tendenzialmente si tende, anche grazie alle sostituzioni, a avere più attenzione per il recupero. E poi se può dirci come mai in questa partita, soprattutto alle 17, non c'è stata la pausa detta cooling break per rinfrescarsi. Non so se sono due coincidenze queste che abbiamo... No, perché per noi il violone non vogliamo fare pause, vogliamo giocare. No, sui due minuti non lo so. Cioè, per fare anche una sostituzione ho visto due minuti e non l'ho più fatta. Non so, sì, è abbastanza singolare. Di solito c'è qualcosa in più, però non penso sia quello un punto di riguardo della partita. Un'altra cosa, volevo chiederle, se non è un caso che l'Atalanta magari quest'oggi ha un po' frenato contro una squadra che possiamo dire è quasi speculare anche per chi la allena rispetto all'Atalanta stessa. Insomma, ci sono state le giuste contromisure perché si conoscono magari più delle altre queste due squadre tra di loro? Beh, sì, in Verona è molto... Vabbè, non questo ormai è risaputo, ma giocare contro Verona è difficile un po' per tutte quante le squadre. quindi hanno fatto anche in questo ultimo periodo forse ha raccolto un po' meno di quello che poteva raccogliere. È stata raggiunta qualche volta nel finale, domenica a Roma, insomma, un po' di episodi. Però il valore del Verona l'ha dimostrato durante tutto l'arco del campionato. Quindi noi globalmente, ripeto, ci sono convinto che potevamo vincerla questa partita. Non era facile, ma c'erano i presupposti per vincerla. Ma non sono dispiaciuto perché so che nell'arco del campionato ci possono anche stare questi risultati e non è sicuramente qui che mi hanno perso qualche punto. Grazie. Quando Thomas Tuchel dice che la squadra di Gasparini non è una squadra italiana, come si intende, che non gioca un calcio italiano, come la prende lei? Un attestato di stima, una cosa che sembra strana? Si sente non italiano lei da questo punto di vista? Non lo so, non l'ho letto Tuchel. Cioè, voi mi state portando delle notizie che non ho letto. Ma no, ma sono opinioni. Ognuno ha le sue opinioni. Io poi non ho bisogno io di parlare dell'Atalanta. C'è già tanta gente che ci riempie di ologhi e ci parla. Io non ho da commentare le dichiarazioni di altri. Volevo sapere se per caso le è capitato di guardare queste prime amichevoli del PSG con 9 gol, 7 gol. Se ha già iniziato un po' a studiare o per piacere guardare i suoi avversari di Champions. Sicuramente noi guardiamo loro come loro guardano noi. Si cerca di preparare al meglio questa partita. È normale che adesso loro sono stati fermi col campionato. Quindi noi abbiamo meno materiale per poterle dare le loro partite. Cercheremo di raccoglierlo adesso e di rifarci a quelle che hanno giocato a febbraio. Forse mai come nella storia oggi l'Atalanta e lei avete i riflettori dell'Europa. Sicuramente della Francia ma dell'Europa su di voi. Come la vive questo momento, questa attenzione, questa curiosità che c'è un po' verso l'Atalanta? Se vi carica, vi concentra, vi sconcentra? Noi la viviamo con la nostra dimensione. Io so che ci stanno caricando tantissime aspettative. D'altra parte siamo arrivati ai quarti, d'altra parte c'è questa formula così nuova che sicuramente accende molto interesse. da poi le partite a secche, eccetera, eccetera. Noi sappiamo la nostra dimensione, la nostra crescita. Ora ci andiamo a confrontare con una squadra che ha dei fenomeni nella sua formazione, fenomeni di valore mondiale assoluto. È una squadra che è candidata a vincere la Champions. È una squadra che in Francia domina da non so quanti anni, come la Juventus qua. A volte ho la sensazione che si perde un po' la misura. Detto questo, è chiaro che noi andiamo con le nostre armi e con la fiducia e la speranza di fare un'impresa. Però siamo anche nell'elite del calcio europeo, quindi ci prepariamo con quelle che sono le nostre armi che ci hanno portato fino a qui. e con questo andremo a giocare, ma proprio molto liberi di testa senza dover vincere la Champions, senza avere il peso di dover vincere la Champions. Grazie. Grazie.